Accensione con falsa partenza per la miccia che incendia lo sparo di Mortaretti sulla torre civica di Lanciano, segnando l'apertura della novena alla Beata Vergine Maria, la cui natività viene celebrata l'8 settembre con il dono alla Madonna. Il presidente del comitato feste di settembre, Fernando Rosato, è stato richiamato dal fuochista per riaccendere una seconda volta la miccia. Il 29 agosto inizia il cartellone del programma religioso con la novena. Gli appuntamenti salienti sono il 7 settembre la vigilia della natività di Maria, quindi il dono l'8 settembre, ancora 11, 12 e 13 settembre le solenni 40 ore, il 14 l'esaltazione della Santa Croce, il 15 la Beata Vergine Maria Adolorata e infine il 16 settembre con la processione in onore di Maria Regina del Popolo Frentano. Venerdì 1 settembre nuovo sparo di Mortaretti sulla torre civica per l'avvio del programma civile delle feste anticipato dalla fiera di Sant'Egidio al 31 agosto. Lungo il corso l'ufficio commercio del comune sta segnando le postazioni assegnate. Sono oltre 120 gli espositori che hanno aderito quest'anno. Tra le novità sarà possibile effettuare gli acquisti utilizzando il pagamento elettronico. E poi per quanto riguarda le feste e il programma, ci sono conferme? Tutto confermato, tutto confermato, il 13 come detto i Megà, 14 tequila con Cicinella live tour, poi ci sarà Fausto Legale confermatissimo e il 16 Paolo Belli, poi abbiamo il codino che abbiamo detto di Lucio Dalla direttamente dal fondatore di Casalalla che verrà proprio lui a presentarci tutto il programma, tutto l'evento.